La carta media della prossima settimana mette in evidenza sull'Italia correnti in quota dal nord-ovest in seno alle quali altre perturbazioni attraverseranno le nostre regioni, da prima al centro-sud e poi di nuovo al nord. I primi due giorni, e cioè domani e dopodomani, avremo condizioni di variabilità sulle zone settentrionali, con piogge e nevicate locali in rapida attenuazione e bora a Trieste. Nuvoloso il centro e il sud con precipitazioni sparse, ma anche una tendenza a miglioramento a partire dalla Sardegna e dal medio versante chirrenico. L'alta pressione dovrebbe far sentire i suoi effetti in mercoledì. Il tempo sarà nel complesso discreto, salvo annuvolamenti più probabili sul versante adriatico e su quello ionico, dove non si esclude la possibilità di brevi piogge e di nevicate esporadiche, anche a quote basse. Peggioreranno le condizioni di visibilità, specie in Piemonte e Lombardia. Nella successiva giornata di giovedì avremo prevalenza di schiarite sui settori di nord-ovest e sulla Sardegna, invariabilità sul resto d'Italia, con qualche fenomeno di durata limitata sulle altre regioni meridionali, e su quelle adriatiche, dove le temperature potrebbero scendere ulteriormente. Gli ultimi tre giorni della settimana saranno caratterizzati da una inversione di tendenza, con cielo poco nuvoloso al sud e tempo più perturbato al nord, che potrà interessare marginalmente anche il centro. Risalirà un po' la temperatura, ma sono previste piogge in estensione dai settori occidentali a quelli orientali, con nevicate su Alpi, Prealpi e Appennino Tosco-Emiliano. Eventuali schiarite avranno comunque una breve durata. E per il momento fermiamoci a risentirci domenica prossima.